Il re si ammalò gravemente e il dottore gli disse guarda la tua cura è che per tre settimane di seguito tu devi vedere soltanto il colore verde. Il re fa dipingere tutto il paese di verde. Dopo tre settimane il dottore torna a visitarlo, lo vestono di verde, lo fanno entrare e dice Sua Maestà che cosa hai fatto? Hai dipinto tutto il paese di verde. E gli disse me l'hai detto tu. Il dottore risponde ma in realtà bastava soltanto che tu mettessi degli occhiali verdi ed era la stessa cosa. Molte volte noi vogliamo cambiare quello che è esterno a noi perché ci sembra più facile. Invece noi dobbiamo cambiare quello che è in realtà dentro di noi. Infatti in questo libro levitico che stiamo leggendo si parla tanto di sacrifici, sacrifici animali. Ma in realtà la Torah ci dice che Dio desidera più che altro un sacrificio nostro interno, del nostro tempo, delle nostre passioni, dei desideri negativi. Questo è una cosa che dobbiamo sacrificare. Prendere un animale dal mercato e sacrificarlo per Dio è molto facile e non è quello che esce in buone. Shabbat shalom a tutti. Shabbat shalom a tutti.